ciao a tutti ragazzi qui per la normal comics e benvenuti in un nuovo episodio della carriera allenatore col benevento se avete visto lo scorso episodio vi consiglio comunque non di caso di andare a vedere perché successi di tutti i colori sono arrivate tre sconfitte davvero dure eravamo secondi davamo molto molto fastidio forse fin troppo alla juve invece ci ritroviamo qua sconfitta col cagliari sconfitta con la fioritina sconfitta con l'ellas verona abbiamo subito dieci gol in tre partite facendo del solo tre davvero una media ridicola una media che non rispecchia il cammino di questo benevento che addirittura nella differenza reti va a più uno davvero davvero assurdo 47 gol fatti per carità moltissimi però 46 gol subiti ragazzi ragazzi come il crotone praticamente come il crotone quindi bisogna un po ridimensionare la situazione era normale che la champions league sarebbe stata un qualcosa di impossibile però l'europa league noi ci teniamo tecnicamente c'è comunque un milan molto lontano sia una partita in meno bisogna ritornare la squadra grande che siamo stati abbiamo l'inter pari punti c'è la roma alla fine solo più uno quindi non è non è persa la situazione però come vi ho detto già nello scorso episodio se dovessimo avere altre sconfitte noi penso giocheremo due partite lazio e juve ovviamente se le perderemo tutte e due vi metteremo anche una terza partita se perdiamo tutte le partite si torna esperto perché almeno così ci divertiamo tutti assieme perché a campione non c'è comunque divertimento andiamo a fare innanzitutto gli allenamenti dei nostri giocatori sperando che qualcuno salga e magari così possiamo avere dei giocatori più forti per per vincere ok ragazzi tentiamo adesso di abbordare la lazio all'olimpico un'impresa già difficile solitamente però la lazio è abbastanza giù in classifica e oltre la decima quindi speriamo ecco tredicesima speriamo di riuscire a almeno a portarci a casa un pareggio non dico proprio una vittoria ma almeno non deludervi ancora così tanto dai ci proveremo ragazzi io penso che noi dovremo secondo me giocare bene senza pensare a vittoria sconfitta pareggio giocare bene come abbiamo sempre giocato perché le potenzialità dei nostri centrolampisti di lucioni di babacarri di cotone le conosciamo tutti non c'è bisogno di concentrarci troppo sugli obiettivi quello che stiamo facendo è già abbastanza grande ora serve giocare bene è tornato marco d'alessandro vediamo se è disponibile è ancora mezzo giaccato vabbè lasciamolo là gli porto parigini che almeno corre dai sono tutti riposati abbiamo una squadra titolarissima ragazzi io di Cudrone non mi fido tanto proviamo gli embellone gli emmello è forte dai ragazzi questa è la formazione che deve fare la storia andiamo in campo venuti da casa sua da casa sua da casa sua vai 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 dove la palla è la scomparsa puoi under vai attendere vai sorridi non ci facciamo sormontare non devo scatenarci 20 minuti per fare più gol che possiamo sorridi kuma sorridi kuma 1 a 0 che tiro che tiro che da dove che potenza angolazione 360 gradi che tiro del kuma ma dove l'ha messa ma dove l'ha messa ecco perché il più forte in italia ma dove l'ha messa 13 in serie a avanti kuma immobile immobile chiudilo ma chi è il nostro mortiere immobile mamma mia solita storia primo tempo non può essere sempre la solita storia non tempo la pareggia ora tra dieci minuti subiamo da 1 e poi si capitola con 3 4 gol di scarto ragazzi il copione solito non possiamo non possiamo farci questo cioè è una questione d'onore non possiamo rinnovo fare la stessa figura orribile l'ho visto dentro katali va a messo gol ti provo no 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 è crociata troppo ma la devi stoppare la non ci credo mi sto sgolando ci stiamo sgolando mi sto sgolando non ci credo la devi buttare dentro simone ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate dei gol sbagliati da simone è assurdo l'hai incrociata troppo ma tu l'hai incrociata troppo attenti ora felipe enderson chiudiamo ragazzi chiudiamo chiudiamo non è possibile non è possibile finisce la partita 2 a 1 grandi ragazzi grandissimi ragazzi e quello scudetto noi speriamo di vincere questa quest'oggi con anche i tuoi non so se si sentiranno andiamo a giocare in casa sempre campione ultimo tentativo poi tempesta sì c'era c'era brutta in casa benevento perché da squadra che poteva vincere lo scudetto occhio a squadra quinta eh ragazzi la juve supprimi c'è qui veramente qui ci sta di perdere anche 5 a 0 le partite scorse che abbiamo avuto anche l'occasione di vincere le abbiamo buttate lì bisognava portare a casa i punti però non demordiamo in ogni caso noi siamo il benevento dobbiamo dimostrare di essere forti di essere una bella squadra perché nonostante tutto questa stagione è stata più che positiva noi andiamo avanti per la nostra strada stiamo facendo il meglio che possiamo con questa squadra che ci troviamo che certo non sono tutti fuori classe già dove siamo è un miracolo per il benevento però noi sognavamo magari la zona europa per ora siamo ancora quinti però tutto tutto in gioco soprattutto se continuiamo a campione continuando le sconfitte noi non vedremo manco l'europa league riuscì il primo tempo ragazzi abbiamo diviso a modo nostro siamo ancora 0 a 0 non stiamo giocando male perché le azioni ne stiamo facendo però partita bloccata la juve la juve ovviamente difendono molto bene noi attacco non stiamo stiamo vacinando però non stiamo creando grandi rischi in difesa invece ci siamo non stiamo concedendo troppo anche se i rischi ce li siamo presi loro un tiro fuori porta noi tre tiri tre tiri in porta l'abbiamo avuto le nostre occasioni ovviamente sono state occasioni comunque non importanti che probabilmente non avrete neanche visto però il secondo tempo in cui bisognerà aumentare il livello d'attacco perché li stavamo mettendo in difficoltà gol della juve con della juve dire che è meritato ragazzi non parlo perché ti direi cose che hanno fatto un'azione assurda guardatelo voi guardatelo voi guardate abbiamo provato a murale in qualunque modo guardatelo voi sembra quasi fuori gioco 2 a 0 un lato b della juve notevole devo dire parole non so che dire basta minuti palla per under scavera anche quello no finisce 2 a 0 partita per me per mio parere equilibrata e anche molto immeritata per la juve facciamo l'ultima partita come promesso a campione se perdiamo anche quella allora poi ci fermiamo vediamo un po cosa ne pensate voi 8 tiri a 5 partita è tutto sommato equilibrata vittoria per me molto immeritata anche perché ti riporta a porta sono stati tre loro quattro nostri giocheremo l'ultima se non mi sbaglio col sassuolo ancora a campione se arriverà un'altra sconfitta allora direi il caso di fermarsi di aspettare ovviamente i vostri commenti qui sotto siamo ancora quinti ma in realtà il milano con l'ipotentica vittoria ci raggiungerebbe quindi europa league a rischio parigini deluso ma io direi che più che essere deluso lui dobbiamo pensare alle delusioni della società bilan che ha giocato e ha perso per fortuna quindi siamo sempre più tre però mancano 7 partite andiamo a fare ovviamente gli allenamenti sperando magari in una salita di qualcuno la cosa divertente che a giugno andranno via metà della squadra vorrei sapere con quale squadra dovevo vorrei giocare questa ipotetica europa league a difficoltà campione ci sono due email vabbè andiamo a leggere poi vorrei vedere anche la juve di quanto ha distaccato al napoli perché penso sia già uno scudetto semi matematico stanno veramente prendendo il volo nicolas viola non so che dire basta è un anno che ce lo ce lo chiedono noi accettiamo dopo alla fine sfumano sempre le trattative ok siamo pronti ragazzi ci vediamo direttamente in campo per l'ultima partita di questo episodio sperando che non sia un disastro come nelle scorse partite juve 69 napoli 58 quindi più 11 dalla seconda direi quasi matematica hanno quasi quattro vittorie in più sono quattro partite nel giro di due tre partite potrebbe essere matematica la vittoria della juve di questa serie a sarebbe settimo scudetto consecutivo napoli che si vuole acquistare il secondo posto per andare ai gironi diretti inter che se la sta giocando con la roma per per i playoff di champions league e poi ci siamo noi assieme a milan e fiorentina per giocarci quel secondo posto in europa league cerchiamo di non perdere anche questa magari un pareggio sarebbe più che gradito le offerte dei nazionali non ci interessano a me sarebbe piaciuta l'italia ma purtroppo non è arrivata l'offerta sempre stato bello giocare i mondiali ma non li andremo a giocare ragazzi ci vediamo in campo babacar dai che tiro 1 a 0 1 a 0 ok 1 a 0 finalmente sappiamo che non basta no non basta perché all'inizio del secondo tempo ce lo pareggiano come di consueto quindi cerchiamo di portare almeno sul 2 a 0 e il kuma è l'unico è l'unico un po' più forte lo sappiamo di sinistro lo sappiamo che ha tanta potenza di piedi però non basta non basta perché troppo poco qui ma lo schermo bello 12 sinistro nell'angolino ragazzi per lui penso siano 14 esatto in serie a un grande attaccante lo sapevamo già da quando l'abbiamo acquistato per 6 minuti e mezzo per mente lo sapevamo che sarebbe stato un grande giocatore si è rivelato tale però ovviamente non c'è molto entusiasmo perché vediamo da una serie di sconfitte rende clamorosa che mi ha vagamente ricordato il benevento reale guardate qui ovviamente la sfortuna bravi bravi ragazzi bravi ragazzi già l'anno pareggiata altro che secondo tempo ragazzuoli miei e che bisogno è se non sono tre sconfitte di fila 2 a 1 per il sassuolo ragazzi gol alla Van Basten si a un telarno alla Fedor rivediamolo tutti assieme grandissimo gol e vabbè 1 2 bam si alza da solo nel 7 complimenti al nuovo Messi Dini non lo so è quasi opprimente sentire cioè vedere che ogni azione che loro fanno è un gol in pratica Feguli mamma mia 3 a 1 Dini ancora si ragazzi 3 a 1 per il sassuolo forza benevento sempre carichi ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti come si può fare così schifo da secondi in classifica a fuori dall'europa league fatemelo sapere voi non lo sappiamo non ho parole che parlo a fare ragazzi che parlo a fare finisce la partita 3 a 1 grandi ragazzi 6 sconfitte di fila ragazzi questa è la classifica Fiorentina a pari punti noi ci giochiamo all'europa league là molto bene direi però anche Roma e Inter sono facendo abbastanza vomitare come noi per non ti trovo la Lazio beh in realtà la Champions League non è manco così difficile però fin quando giochiamo così di cacca mi sa che non si va da nessuna parte ragazzi direi che per questo video è abbastanza avete visto abbastanza partite orrende per la giornata direi che noi ci vediamo nel prossimo video ma consigliateci che difficoltà usare se campione o esperto qualcuno di voi in questo istante proprio ho letto un commento mettete leggenda se mettiamo leggenda mi sa che andiamo direttamente in serie D quindi diccelo voi comunque queste sono le difficoltà che abbiamo giocato queste sono le statistiche quindi a campione puro senza modifiche noi perdiamo così eppure mi sembra che a campione ci abbiamo già giocato e qualche risultato dignitoso l'abbiamo raggiunto quindi non so che dire onestamente squalificato da Alessandro beh è stato un episodio deludentissimo come lo scorso mancano otto no sei partite alla fine Atalanta-Milan-Udinese Spal-Germo e Chievo beh ragazzi che direi se questo video boh se vi è piaciuto non lo so lasciate un like commentate soprattutto per la per la difficoltà se vi siete ancora iscritti iscrivetevi beh ragazzi ci vediamo nel prossimo video bella grazie a tutti grazie a tutti